Ciao, eccoci ad un nuovo appuntamento con Buyer's Line Finance. Con questo approfondimento oggi parliamo di breakeven point o punto di pareggio. Se l'argomento ti interessa, continua a seguire il video e se ti va iscriviti al nostro canale, lascia un like qui sotto e seguici sul nostro blog e canali social. E ora iniziamo! Il breakeven point o punto di pareggio è il livello minimo di fatturato necessario affinché un'impresa o un progetto copra i propri costi fissi e variabili. Oltre tale livello, ogni unità aggiuntiva venduta contribuirà alla generazione di profitti. Se le vendite o la produzione sono al di sotto del punto di pareggio, l'azienda sarà in perdita. Il breakeven point è un indicatore importantissimo per comprendere il livello di rischio di un progetto o un investimento, poiché identifica quanto sia necessario vendere o produrre per rientrare dell'investimento, evitando di incorrere in ulteriori perdite. Ma come si calcola? Da antologia, il breakeven point è la soglia critica di equilibrio tra entrate e costi. Per calcolarlo, è necessario confrontare i costi fissi, i costi variabili e i ricavi generati dall'investimento. Solitamente si considerano due modalità principali per determinarlo. 1. Breakeven point in unità. In questo caso si calcola il numero di unità che devono essere vendute per raggiungere il punto di pareggio e la formula per calcolare il punto di pareggio è la seguente. Costi fissi diviso prezzo unitario meno costo variabile unitario. Dove costi fissi sono i costi che rimangono invariati indipendentemente dal volume di produzione o vendite, ad esempio affitto, stipendi fissi, ammortamenti. I costi variabili sono i costi che variano in proporzione diretta con la quantità di produzione o vendite, ad esempio materie prime, commissioni di vendita. 2. Breakeven point in valore. In questo caso si calcola il fatturato necessario per coprire i costi e la formula per calcolare il punto di pareggio è la seguente. Costi fissi diviso margine di contribuzione in percentuale. Dove margine di contribuzione è la differenza tra il prezzo di vendita e costi variabili, espresso in percentuale. Questo secondo approccio si utilizza quando si preferisce ragionare in termini di ricavi piuttosto che unità vendute. Ma esiste una possibile terza variante, utilizzata soprattutto nel mondo degli acquisti, che si concentra sul saving piuttosto che sui ricavi. Questa opzione viene utilizzata quando ad esempio si acquista un bene da un fornitore e si palesa l'opportunità di ridurre il costo di acquisto a fronte di un investimento iniziale, come ad esempio l'acquisto di un'attrezzatura speciale. In tal caso il break even point potrebbe essere calcolato come costo investimento diviso saving, dove il saving rappresenta appunto la riduzione di costo per singola unità ottenuta grazie all'investimento eseguito. Quando utilizzare il break even point? Il break even point può essere utilizzato in molteplici situazioni. Valutazione della sostenibilità di un'impresa. Aiuta gli imprenditori a capire quanto devono vendere per coprire i costi e iniziare a generare profitto. Questo è fondamentale sia nelle fasi di avvio di un'impresa che durante la gestione corrente. Pianificazione strategica. Le aziende utilizzano il punto di pareggio per prendere decisioni su politiche di prezzo, costi di produzione e margini di profitto. Sapere quando si raggiunge il pareggio aiuta a definire obiettivi realistici e pieni di crescita. Analisi di nuovi progetti. Nella valutazione di un nuovo progetto il break even point è spesso usato per capire quanto tempo ci vorrà prima che l'investimento generi profitti. Gestione dei rischi. L'analisi del punto di pareggio permette di identificare il rischio associato a variazioni delle vendite. Se il break even point è alto rispetto alle vendite previste, l'azienda potrebbe trovarsi in una situazione di rischio elevato, mentre un punto di pareggio basso indica una maggiore stabilità. Ottimizzazione dei costi. Aiuta a evidenziare l'impatto di eventuali riduzioni dei costi o variabili e come queste possano influire sul margine operativo. Limiti del break even point. Nonostante il break even point sia uno strumento utile per la valutazione finanziaria di un investimento, bisogna prestare molta attenzione a come lo si utilizza, per via di alcuni limiti intrinsechi del metodo stesso, come ad esempio costi variabili e fissi sono considerati costanti. Questo potrebbe non essere sempre vero, soprattutto su larga scala o in presenza di economie di scala. Non tiene conto di fattori esterni che possono influenzare prezzi e costi, come ad esempio variazione della domanda di mercato, concorrenza o cambiamenti normativi. Non tiene conto delle rimanenze di magazzino. Arrivederci e come al solito ricorda, segui la linea dell'acquisto efficace, segui BuyersLine.